Eccomi, c'è la linea intanto, la vettura 3150, adesso portati a Roma. Siamo vicini a Sant'Agnès e a Sant'Agnès. Sì, è il Sì sì. Che bello la linea 80. La 7150 penso che la mia piota è che la 8860 è la ventura. Adesso vediamo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.